Come fare a pulire una pianta di sedano? Questo video è fonte di ispirazione di tanti errori visti fare. Perché errori? Perché vedo che spesso si prende un coltello e tac si taglia qui. Significa buttare via il cuore. Quindi per noi la prima cosa da preservare è proprio quello che sta qui dentro. Partiamo dal basso con uno spelluchino, subito qua, rasenti, rasenti, togliamo la base della radice. Dopodiché iniziamo ad analizzare il sedano. Queste sono chiamate coste. Si tirano le coste. Guardate che bello. Vedete il verde? Più è esposto alla luce e più c'è la formazione di clorofilla. Più clorofilla e più sapore erbaceo. Quindi per noi è coste, la parte più forte. Cuore, che viene separato così. Guardate adesso. Punte, punte, punte. Ora tornite leggermente. Questo è il cuore, la parte migliore per tagliarlo a julienne, a fettine, a listarelle. Ed è ottimo per tutte le preparazioni crude. Ma soprattutto dove non ha preso luce è proprio la parte più dolce. Passiamo a ciò che resta. Tolgo ancora le foglie e queste sono le coste. Le coste, una volta ben lavate, possono essere tagliate a cubettini, tritate, in tutti i fondi, salse. Quindi stiamo parlando di un prodotto cotto. Se dobbiamo utilizzarlo crudo, mi raccomando, non le servite così. Perché stare a tavola e masticare tre ore i filamenti è proprio brutto. Quindi si usa il pela patata d'archetto e con questo lavoro, tac, 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 e improvvisamente togliamo la parte più coriacea. E guardate un po', anche la costa, pulita bene senza buttare la parte più tenera, improvvisamente diventa qualcosa da mangiare molto più elegante. Detto questo, ci rimangono le foglie che lavate bene, non sciacquate, lavate bene, centrifugate e fredde, si prestano ad estratti e centrifughe dal sapore molto forte. E quindi abbiamo preservato tutte le parti più importanti del sedano. Il cuore, con la sua radice, delicatissimo. La costa sbucciata cambia intensità. Con la buccia e la parte alta sta diventando erbaceo. Le foglie, erbaceo intenso. Le foglie, erbaceo intenso.